Siamo qui con Salvatore Salfilippo, il portiere del DLF Roma. Parloci un po' di questo match. Credo ci sia poco di cui parlare, da commentare. Noi eravamo cinque contati, giocavamo contro quella che probabilmente, se non si è già rivelata, si rivelerà la squadra più forte del torneo o una delle più forti. Quindi che c'è da dire? Bravi gli avversari, bravi noi per quanto concerne l'impegno che ci abbiamo messo. E poi per il resto è difficile commentare una partita dove prendiamo sei, sette, otto gol. Ho perso anche il conto, quindi bravi gli avversari, bravi noi per quel poco che siamo riusciti a fare. Secondo te c'è qualcosa che poteva essere fatto diversamente all'interno del match? C'è sempre quando si perde qualcosa che poteva essere fatto diversamente. Poi chiaramente la realtà è un'altra. Non ha alcun senso per me rammaricarci ormai perché tanto la partita è finita, però sicuramente un po' più di cattiveria sottoporta ci manca. L'abbiamo dimostrato, ahimè, altre volte purtroppo e quindi poi quando non si fa gol a calcio si sa poi il rischio di prendere l'alto e così è stato. Vabbè, ti ringrazio e in bocca al lupo. Grazie a voi, buona serata.